Salve ragazzi! Oggi si tratterà di uno scherzo a mamma Daniel Era ora perché visto che solo Benedetta sta subendo i miei scherzi Non è giusto sta cosa, infatti dovremmo risolverla a persona a persona Lei oggi si dichiarerà a mamma Daniel Come voi sapete, o perché non lo sa è uguale, ve lo ripeto, ve lo dico, mamma Daniel è sposata Lei lo sottolineerà come minimo 20 volte Di sicuro? Ne sono stra sicura perché io conosco mia mamma E quindi dirò a mamma Daniel che io, ovvero sua figlia, prova qualcosa avverso di lei Dei sentimenti molto forti Ma ti immagini se lei ti dice anche io provo dei sentimenti per te? Qui nasce beautiful, insomma Non lo so Mi raccomando, durante lo scherzo, quando lei... Non dobbiamo ridere, dobbiamo essere stra seri Secondo te che succederà? Succederà che se tu non lo fai bene e sbaglio qualcosa ti sgamo subito perché lei queste cose le capta molto bene Capisci quando una persona lo sta prendendo in giro Quindi mi raccomando, non devi ridere assolutamente Mamma Daniel ti sto per dire che io sono lesbica Vi lasciamo alla sigla e poi a video Ciao ragazzi Ciao Mamma Daniel puzza Come te, fraccia Per schifo Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi E benvenuti in un nuovo video dei Gangster Link Oggi ragazzi come qualcuno di voi ci ha consigliato Basta E' il nostro migliore No no raga non mi sento che fa il video Non mi sento bene E lì vuoi sapere un bicchiene d'acqua per favore Si Un'è l'acqua? Dio santo allora dimmi lo so che fai saluti mi fa fa sette fibre di merda Ma è una gioia Poi c'è una cosa Dio santo naturale E come vuoi C'è un po' sbricare le neve, è un po' via Ah per cosa Ci sci Non so quando andiamo Bevuta la bottiglia Prego Sai zitto Oda Può andare un attimo via Devo dire una cosa a Lisa C'è una cosa che non Oda te ne vai per favore Ma che ne è Per favore Non è che poi sbriga per favore che tocca far video Oddio C'ho il cuore a mille C'era la brutta in fatto Tu sei lì Marone Cazzo c'hai? C'ho il cuore a mille C'ho fatto Io devo dire una cosa Non voglio Che Aspetta ci stanno a vedere qui No Ma scelvi Dai Mamma mia Bevi 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 C'ho il cuore a mille Ti giuro non riesco Oh salve Non so come Dai Che succede? Però è da tanto Quindi c'è Te lo devo dire Una cosa ho fatto io No Davide Non la sa Eh Che c'è? Mi scappa fuori il cuore Mi ha sparaffa Probabilmente C'è Oggi Non si farà il video Perché Tu fra poco Devi andare al lavoro Quindi Sì Sì Come dico Mi ha lavorato Mi lo detete Sì Certo come no Mettiamo via Storato Cosa stai a pensare Tu fra poco Come sei Allora Ti voglio No Ti voglio Ti volevo Di che Come sai È da parecchio tempo Che io Non sono più Finanzata Con l'italia Sì Sì Non mi so più Parla piano No Stato alla vostra Non mi so più Frequentata Con altri ragazzi E Non mi avete fatto Stai provando Ti stai zitto Dai Non mi so più Stupito Ma te sbriti Io mandi via Per favore Non ci riesco a far video Non ci riesco a far video È una cosa Che tu Non devi sapere Che mamma Daniel Sì Mi so accorta Che mi piacciono Le ragazze Vieni qua Ti stai passata Ti stai passata An più Ti stai passata An più Bene Chi è Guarda Vediamo Tutto qua Sì lo sa Ecco Questo Io no Denisa No No ma che sei matta Allora Vestate zitti Ragazzi Ssshh Se ne volete Sdipite Ma via Vado Per favore Il video Gli devo Di una cosa Poi Sticavolete Il video Se farà un altro Giorno Non me ne frega Niente Te lo volevo Di tramite Whatsapp O cose Così Perché Ci sono passata Anche io E Sì Basta Ok Ragazzi Mi sa Che mi piace Madonna Madonna Eh Io Tornati Sei sposata Ma Lascia Stefano Lascia Stefano Ma tu sei matta Vieta mia Andiamo via Andiamo Io Ma scendono Dove No Scappiamo via Non gli esimo Niente Nessuno Ma tu Che è successo Niente Te ne vai Per favore Che cosa No un attimo Io ho capito Lascia Stefano Che è successo Niente Andiamo via Lascia Stefano Divorzia Divorzia Esiste il divorzio Mi dispiace Andiamo a sposarci In America È una cosa Loro Non ride Io so seria Porca miseria Te vedo In America Esistono ste cose Che Praticamente fuori In Italia No Perché sono tutti contro Tu perché Vedi che chiamo Crocio Davide Ma io lo chiamo In modo così Ma non per offendere Non c'è nulla Contro I gay Ehi Certo Ma bene Divorza Da Stefano Che te vuoi La rifaccia Che d'orge No Bene Vieni qua Non me sta Che cosa Troverai un'altra Di ragazza Guarda forte Troverai un altro Di ragazza Che tu C'è stato Inisa C'è stato Il 90 Ma non mi piace Il diisa C'è stato Un altro Di ragazze Ma non mi piacciono Quell'altre Tu Adessi Ne troverai Una Che dice Ma non mi piace Ma mi piaci Tu Mi piace Che devo fa Ascoltate Io ho chiamato Le camera Perché Ma che sto fa Dai E poi Vieni un attimo Qua Qui la cosa Sta degenerando Per favore Sì infatti Ma che è successo Se fosse per l'estate Di Mi sono andata Per farla La casterna Ma non mi piace Ma che sta a dire Che sta a dire Eh Ma che sta a dire Niente Glielo dici Prima Io non ho il coraggio De Dio La tua Sollina Che cosa Vede Che mi devi Dì Niente Non mi piace Ti sbrighi E tocca a fare Questo video Che è tardi Basta Col mio Che stavolo Te ne spiega Nel viso È tardi Sono in quattro e mezza Devi andare pure a lavorare Lei deve andare a lavorare Lo so Oggi non ce l'ho fatto Dio Iniziamo No Ciao a tutti No non è vero Fermi tutti Fermi tutti Mamma mia Mamma mia Glielo puoi Ditto Per favore Gli piace Che Che ma sta Bene Ma stai scherzata È una scherzata È una scherzata È una scherzata È una scherzata Svegli È una scherza Allora ragazzi Il video Spero vi sia piaciuto Era questo il video Noi stavamo registrati Non te ne eri accorta Beh Come me l'accordo Cioè si Pensavo che Avevi stoppato Non me l'aspettavo Grazie Tranquilla Veneto Gli piacciono i maschi Beh certo Anche a me Io Lei È sposata Quindi ragazzi Ho provato a convincere Di scappar via con me Ma lei non voleva E niente ragazzi Lasciate un bellissimo Mi piace Iscrivetevi al canale Commentate giù sotto E noi Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Voglio ritornare Addio Addio Amici Addio Addio Venite domani Da noi Ciao